ciao a tutti eccoci qua in una nuova vacanza questa volta abbiamo scelto rovi un'isola della grecia molto vicino alla turchia spero che questo video vi piace in qualche modo vi possa essere di aiuto ma prima di andare al mare andiamo a far un giro nella volta veramente molto interessante grazie a tutti bene e adesso andiamo al mare andiamo alla meravigliosa Anthony Queen Bay ma andiamoci mattina presto perché i posti sono davvero limitati grazie a tutti grazie a tutti bene ora ci spostiamo verso sud subito dopo Anthony Queen Bay troviamo due spiagge Traganau Beach e Affandao Beach in realtà Traganau Beach è la parte iniziale quella a nord di Affandao Beach e vi consiglio di visitarla poiché è una spiaggia molto interessante molto l'ambiente molto vario ci sono un paio di caverne una delle quali ha l'accesso dal mare l'acqua è veramente di qualità ottima buon bagno grazie a tutti 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 e a tutti grazie 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 a tutti